Agli europei paralimpici di atletica leggera che si stanno svolgendo a Berlino, sul podio è salito un grandioso Giuseppe Campoccio, in arte Joe Black, nel lancio del peso categoria F33. Originario di un paese vicino a Bolzano, vive da anni a Cassino. Era uno dei favoriti alla vigilia, avendo ottenuto il bronzo iridato l'anno scorso ai mondiali di Londra e occupando quest'anno il primo posto del ranking mondiale. Nell'atto conclusivo odierno, Campoccio si è aggiudicato l'oro continentale con la misura di 11 e 17, a precedere il croato Danny Cerny e il polacco Michael Gabb. A congratularsi con l'atleta attraverso un tweet il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, che scrive Campoccio oro agli europei di atletica paralimpica, una bellissima vittoria in questa prima giornata di competizioni. Tutta la regione Lazio è felice. Esprimo le mie congratulazioni a Giuseppe Campoccio, dice invece il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, per aver conquistato la medaglia d'oro nel lancio del peso. Il prestigioso traguardo è motivo di orgoglio per la comunità cittadina di Cassino e dell'intera provincia di Frusinone. Lo sport è un prezioso strumento di inclusione sociale e Campoccio è un modello soprattutto per i tanti giovani che si avvicinano al mondo dello sport, in quanto testimonia che la costanza, la passione e la forza di volontà possono sconfiggere ogni ostacolo.